Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution 2. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio qui in Sierra Nevada, ho iniziato la costruzione di un nuovo parco dedicato ai dinosauri. Ho creato due recinti dove all'interno ho inserito vari Parasaurolophus e anche qualche Edmontosauro. Oggi vorrei proseguire la costruzione del parco e in questo video vorrei realizzare in questa zona un recinto circolare per il Tyrannosaurus Rex. Vorrei anche fare in modo che il livello del terreno del recinto si trovi più in basso rispetto alla strada, in modo che così i turisti che ci passano a fianco possono dare un'occhiata dentro e vedere bene questo animale. Allora, selezioniamo ambiente, selezioniamo abbassa il terreno e direi che potremmo fare una cosa del genere. Allora, adesso sto abbassando questa zona, poi facciamo così e direi che così ci può stare. Lo creiamo bello grosso, eh, perché vorrei ospitare almeno una coppia di Tyrannosauri. Ok, direi che così può andare bene, mi sembra abbastanza grande rispetto magari a quello che ho creato per i Parasaurolophus. Adesso disponiamo la recinzione, poi al massimo si può sempre modificare dopo, eh. La disponiamo tutta attorno. Ecco qua. Dobbiamo seguire il bordo di questa conca, eh. Ok, ce l'ho fatta. Direi che come forma può andar bene. Adesso dobbiamo sistemare soltanto un attimo il bordo, perché come vedete la recinzione va un po' su e un po' giù e non è molto bella da vedere così. Deve stare tutta sullo stesso livello, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi il recinto è già pronto. Adesso dobbiamo dedicarci alla strada. La possiamo far arrivare qua. E poi proseguire tutto attorno. Lasciando magari un po' di spazio tra la strada e il recinto, eh. Ok, ci siamo quasi. Et voilà. Questo è il risultato finale, vedete? Secondo me sta venendo molto molto bene. Adesso non è un cerchio perfetto, perché comunque non è facilissimo creare dei cerchi perfetti su Jurassic World Evolution 2, però direi che ci siamo. Dobbiamo disporre le gallerie panoramiche per dare la possibilità ai turisti di poter osservare gli animali. Quindi ne possiamo mettere una qua, che copre praticamente quasi tutto il recinto, o buona parte. L'altra la possiamo inserire qua, dove c'è questo bivio. Tanto poi anche questa strada qua la dovrò modificare. la terza da questa parte e la quarta qua in fondo. E così tutto il recinto è coperto. Per far sì che i turisti non debbano scarpinare troppo, per magari vedere il T-Rex da più angolazioni, costruiamo una stazione della monorotaia da questa parte. Poi facciamo in modo che la linea prosegua da questa parte proprio appena fuori dal recinto, così non copre la visuale. Qui bisogna un attimo modificare perché si è stretta troppo. ecco fatto e poi l'altra stazione la costruiamo qua, ecco fatto. Sì, direi che ci può stare, a parte queste tre colonne. Oddio, potrei modificare la strada da questa parte in questo modo, eh. Così sposto un attimo. Perché sono brutte da vedere quelle tre colonne dentro al recinto, non mi piacciono granché. Molto meglio. Adesso è molto, molto meglio. Iniziamo naturalmente a produrre i due animali, quindi andiamo a selezionare i due T-Rex. E direi che uno potremmo crearlo con la skin 65 milioni di anni fa. Quindi, eccola qua. Naturalmente gli modifichiamo il genoma in modo che possa vivere bene anche sulla Sierra Nevada. Non gli posso cambiare il colore, giusto? No, non gli posso cambiare il colore purtroppo. Quindi salviamo e usciamo. Invece il secondo T-Rex... Vediamo un po', potremmo crearlo con skin 1997a. Qui al centro mettiamo una bella pozza d'acqua. Magari là si può modificare nella forma in questo modo. Poi tanto si può sistemare così. Ecco fatto. Sì, direi che ci può stare. L'allunghiamo soltanto un attimino di qua. Di mangiatoie gliene voglio mettere di due tipi. Quelle con la capretta, quindi con le esche vive da questa parte. E quelle invece normalissime con la carne da quest'altra. Così fanno avanti e indietro nel recinto. Qui possiamo anche non inserire un pezzo di terra perché tanto possono passare in mezzo all'acqua. Direi di aggiungere un po' di foresta. Magari proprio dove non ci sono le gallerie panoramiche. Per i turisti voglio inserire anche una teleferica. Dopo la proviamo insieme. Che parta da qua e arrivi... Da questa parte. Vedete, attraversa tutto il recinto del T-Rex. Qui voglio posizionare una seconda recinzione. Così possiamo mettere anche delle piattaforme panoramiche. La mettiamo così. Ecco fatto. E poi ci appoggiamo sopra le piattaforme panoramiche. Ne mettiamo tre. Uno. Due. Ed ecco la terza. E poi il pezzo in più di recensione lo possiamo togliere. Il resto lo sostituiamo con quello in cemento armato. Così. Vedete? Questo ragazzi è il risultato finale. Guardate un po'. Possiamo vedere tutto il recinto del tirannosauro. Anche i turisti che lo attraversano con la teleferica. Ok ragazzi, gli animali sono pronti. Quindi purtroppo non li posso liberare direttamente nel recinto dei Parasaurolophus. Se no mi farebbero immediatamente una strage. Li liberiamo per via aerea direttamente nel loro nuovo recinto, nella loro nuova casa. E il primo Rexy, quello con le piume, è arrivato. Guardate che bello. Ok, ci ha dato una breve descrizione dell'animale. Sta arrivando anche l'altro. Bisogna sistemare però la recinzione perché questa qua è troppo debole per resistere a un attacco di questo animale. Quindi direi di sostituirla per il momento tutta con quella in cemento armato. Facciamo una cosa del genere. E in alcuni punti possiamo mettere quella pesante tipo di Jurassic Park 3. Vedete? Qua. In questi due punti qua. Direi che sta venendo molto molto bene. Vediamo di che cosa hanno bisogno questi animali in questo recinto. Foresta, spazio aperto e prede. Non ci sono abbastanza prede quindi mi sa che devo aggiungere una mangiatoia per carnivori con caprette. Di foresta comincia a essercene abbastanza. Di spazio aperto ne servirebbe di più. Quindi possiamo comunque aggiungere degli arbusti ornamentali. Per far sì che non ci sia soltanto questo manto bianco ma si intravedono anche delle piante nel recinto perché sennò come dire è un po' brutto da vedere. Ok così c'è abbastanza foresta e spazio aperto. Servono le prede. Servono le prede che gliele possiamo aggiungere immediatamente. Mettiamo delle caprette anche da questa parte. Però voglio aggiungere anche delle piante singole perché sennò il recinto mi sembra veramente veramente troppo spoglio. Quindi come abbiamo già fatto anche per i parasaurolophus mettiamo delle piante così sparse a destra e manca e via. Ok ragazzi ho finito di sistemare il recinto ho aggiunto delle piante singole. Hanno leggermente modificato la percentuale di spazio aperto però non così tanto come mi aspettavo. Adesso possiamo mettere le pietre perché comunque mancano quelle. E poi dovremmo essere a posto anche in questo caso come ho già fatto anche per i parasaurolophus disponetele un po' a caso. Potete utilizzare tutte le pietre a vostra disposizione tanto in un paesaggio così invernale saranno tutte ricoperte da uno strato di neve. Secondo me non è venuto per niente male come recinto. Magari possiamo aggiungere ancora un pochettino di foresta in questa zona qua. In modo da rinforzare un po' le varie piante singole che avevo posizionato. Però mi pare che i t-rex abbiano tutto quello che gli serve per sopravvivere tranquillamente qui dentro. Questo è il secondo. Quello con la skin The Lost World di colore verde. Allora direi che da questa parte possiamo mettere degli hotel. Ne possiamo mettere un bel po'. Magari uno. Due. Come ho fatto già anche all'entrata del parco. E tre. Ecco fatto. Ci stanno benissimo anche perché si trovano proprio davanti a una delle gallerie panoramiche. Poi dobbiamo creare una zona dove inserire vari servizi. La possiamo magari creare qua. Vediamo se ci stanno. Mi pare proprio di sì, 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 sì. Ci stanno, ci stanno. Possiamo mettere anche quelli grandi. No, quelli grandi non ci stanno. Però ci stanno quelli medi. Sicuramente. Così tanto per variare un po'. Anche perché se no metto sempre quelli piccoli. Allora. Adesso ho posizionato, se non sbaglio, il cibo. Mettiamo il bere. Poi mettiamo i regali. Poi visto che ci troviamo di fianco ad un recinto di dinosauri carnivori. Ricordiamoci di mettere anche dei rifugi d'emergenza. In modo che i turisti li possano utilizzare immediatamente. Magari questo lo posizioniamo proprio davanti alla galleria panoramica. Perfetto. Ce ne sono di cose da aggiungere. Mamma mia. Ce ne sono veramente, veramente tante. Poi qui mettiamo anche dei bagni. In corrispondenza della piattaforma panoramica centrale. Ne mettiamo altri perché effettivamente non ce ne sono abbastanza. Altri ne possiamo mettere anche qua. E il terzo per il momento lo voglio inserire qua. Poi al massimo con lo sviluppo del parco si può sempre modificare. Qui di fianco mettiamo due attrazioni diverse. Che magari possano intrattenere i turisti. Dopo bisogna modificarle un pochettino perché sennò sono identiche. Da questa parte possiamo mettere degli edifici operativi che i nostri visitatori possono visitare. Per capire come gli scienziati del Jurassic Winter Park hanno riportato in vita questi animali. E se non stanno bene come li possono curare. Ecco fatto. Poi mi sono dimenticato di mettere un cancello. Ne mettiamo due guardate perché uno solo è un po' poco. Così i nostri operatori possono entrare all'interno del recinto in caso di bisogno. L'altro lo mettiamo da questa parte. Inseriamo altri tre hotel. Da questa parte del recinto. Però mettiamo quelli piccoli eh. Di là ho messo quelli grandi. Di qui voglio mettere quelli piccoli. Poi creiamo una strada che passi attorno al rifugio d'emergenza. Così. E tutti intorno gli mettiamo dei servizi medi. Regali, souvenir. Poi mettiamo anche due ristoranti. Uno. E adesso mettiamo anche l'altro. E due. Sono diversi vedete. Questo qua è un servizio piccolo. L'altro è un servizio medio. E per cambiare un po' mettiamo anche un servizio grande va. Voila. Mi piace. Però, però, fermi. Servizio grande dove si possono acquistare delle bibite eh. Ecco fatto. Adesso mancano tutte le decorazioni. Dobbiamo mettere le luci. Le walle e tutto il resto. Faccio questo lavoro e poi vi faccio vedere il risultato finale. Come potete vedere ho disposto tutte le luci in modo che possano illuminare il percorso ai turisti. Da questa parte possiamo mettere queste che sono un po' più piccole. Perché sennò non ci sono luci da questa parte. Ecco fatto. Ne mettiamo altre due. Proprio qua. E via. Adesso sto disponendo le i walle per decorare tutta questa zona. E renderla un po' più bella da vedere. Qui sto utilizzando quelle di tipo B. Dove c'è abbastanza spazio se ne possono mettere anche eventualmente due. Proprio per evitare di lasciare troppi buchi vuoti. Ok ragazzi. Ho messo anche delle i walle. Vedete sembra già tutta un'altra cosa. Adesso passiamo a delle i walle un po' diversi. Con delle piante. Le mettiamo qua e là lungo il percorso. In modo che. Diano un tocco di colore in più al paesaggio. Per il momento comunque questo è soltanto un risultato parziale. Perché poi dovrò inserire tante altre decorazioni. Adesso volevo mettere anche delle piante singole. Intorno qua al recinto. Soprattutto dove. Non c'è la recinzione pesante. Ma quella direttamente in cemento armato. Le mettiamo un po' a casaccio. In modo da nascondere il muro di cemento. E ci rivediamo per voi tra pochi secondi. Così vi faccio vedere cosa sono riuscito a combinare. Perfetto come vedete ho disposto parecchie piante intorno al recinto del tirannosauro. Soprattutto come vi dicevo dove c'è la recinzione in cemento armato. Così la nascondono un pochettino alla vista dei visitatori. E il tutto sembra molto più naturale. Dobbiamo aggiungere ancora un po' di rocce davanti a questi hotel piccoli. Perché dall'altra parte ho messo delle rocce. Proprio per decorare anche questo piccolo spazio qua davanti. Perché se no sembra troppo spoglio. Così almeno c'è qualcosa. Ecco fatto. E adesso volevo far affrontare al T-Rex un avversario. In modo da concludere questo video con una bella lotta tra dinosauri. Potremmo fargli affrontare un avversario proprio classico classico. Un bel Triceratops. Per vedere chi avrà la meglio tra i due. Ne creiamo uno e lo portiamo dall'altra parte. Intanto osserviamo il re delle lucertole tiranne. Mentre si ferma davanti alla mangiatoia per cibarsi. Là ci sono più che i turisti direi gli operai. Saliamo sulla teleferica e vediamo un po' cosa possiamo vedere da questa altezza. Beh direi praticamente tutto quanto. Dov'è l'altro T-Rex però? Ne vedo solo uno. Eh l'altro sarà in mezzo alla vegetazione probabilmente. Comunque è fichissimo poter attraversare il recinto del... Ah eccolo là. Il recinto del T-Rex in questo modo. Allora il Triceratops è pronto. Lo portiamo da questa parte. E vi faccio vedere immediatamente la battaglia tra questi due animali. Ragazzi forse ci siamo eh. Perché... Il Triceratops è in posizione di difesa guardate. Sta osservando i due T-Rex. Uno sulla destra e l'altro sulla sinistra. Vediamo chi deciderà di affrontare questo crarmato preistorico. Addirittura è lui che attacca il T-Rex. Veramente? Ma dimmi un po'. Guardate un po'. Non mi sarei mai aspettato di... Di vedere il Triceratops attaccare il T-Rex. Attenzione. Attenzione. Il T-Rex manda a segno il primo colpo. Eccoli lì che combattono. Però il pop-up è apparso un po' troppo tardi eh. Ok. Termina così il primo scontro tra i due. Pensavo che il T-Rex... Gli desse il colpo di grazia. Invece... Ha deciso di andarsene. Il T-Rex sta per caricare il Triceratops. Attenzione. Eh, il Triceratops ha visto che non ha via di fuga. Quindi... Si è già messo in posizione di difesa. Ci sono i due T-Rex che entrambiano molta fame. Occhio! Attenzione. Il primo colpo è andato a segno. È un peccato che anche l'altro T-Rex non possa unirsi alla lotta. Ed eccolo lì! Però attenzione. No, ok. È sempre il T-Rex che ha mandato a segno il colpo. E qui gli dà il colpo di grazia. E qui gli dà il colpo di grazia. Attenzione. L'ha preso dietro alla cresta. E praticamente l'ha soffocato. Bella lì, bella lì. È stata veramente una bellissima battaglia. Ho aggiunto delle piante qui attorno per farvi capire più o meno come dovrebbe diventare questa zona. Adesso poi naturalmente aggiungerò altri edifici, però negli spazi vuoti saranno presenti queste piante. E direi che l'effetto è veramente spettacolare. Ragazzi, terminiamo questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution 2 qua. Spero naturalmente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo video di Jurassic World Evolution 2. Alla prossima!